Attacco alla CGL di Roma, presidio a Chiavari, non permetteremo che si torni indietro di un secolo, ha detto il responsabile della CGL Tiguglio Golfo Paradiso Domenico del Favaro, che ha aggiunto, con le nostre sedi vandalizzate reagiremo e resisteremo nel rispetto delle regole dell'ordinamento democratico, come facciamo contrastando il fascismo e poi il terrorismo. Ieri mattina la CGL ha svolto presidi in tutta Italia a seguito dell'assalto del giorno prima alla sede di Roma del sindacato. Nel Tiguglio la manifestazione si è svolta a Chiavari. Non permetteremo che si torni indietro di un secolo con le nostre sedi vandalizzate, reagiremo e resisteremo nel rispetto delle regole e nell'ordinamento democratico, come facciamo contrastando il fascismo e poi il terrorismo, ha affermato il responsabile della CGL Tiguglio Golfo Paradiso Domenico del Favaro. Il sindacato incana oggi, come ieri, l'impegno per garantire nel nostro paese il rispetto della democrazia, ha aggiunto la UIL. E' ormai palese come le teorie no-vax e le proteste contro il Green Pass vengono strumentalizzate da squadristi fascisti per attaccare le istituzioni democratiche, ha detto invece il segretario della Federazione Tiguglio del Partito Democratico, Alessio Chiappe. Chiediamo a tutte le forze politiche e a tutto il Consiglio Comunale di Lavagna di condannare esplicitamente quanto è avvenuto a Roma, dicono infine i consiglieri comunali di minoranza Aurora Pitao e Guido Stefani del gruppo Officina Lavagnese. Questa mattina a Genova si è svolto lo sciopero generale contro le politiche del governo Draghi. La manifestazione è iniziata già dalle prime ore del mattino, bloccando via Lungomare Canepa. Successivamente, dal termine al traghetti, il corteo si è diviso in due. Una parte è salita sulla sopraelevata, mentre l'altra ha proseguito per via Milano, verso la sede di Controindustria. In manifestazione, anche la presenza di antagonisti e il collettivo dei No Green Pass, così come quella dei lavoratori portuali. Il corteo ha proseguito raggiungendo la sede di Confindustria, il grattacielo ex SIP, tra via Fiume e via San Vincenzo, facendo esplodere petardi e accendendo fumogeni. Successivamente, il corteo è salito per via 20 Settembre per recarsi verso la prefettura. Poi alle ore 13.30 il corteo si è sciolto e verso le 14 il corteo ha raggiunto Piazza Corvetto, bloccando il traffico. Nel pomeriggio è stato mantenuto il presidio dei No Green Pass sotto la prefettura di Genova, mentre una delegazione di manifestanti è stata ricevuta nel palazzo del governo. Domani, gli organizzatori hanno dato appuntamento in via Garibaldi per un corteo contro sindaco e giunta. Lo sciopero nasce per denunciare in modo chiaro il drammatico impatto sociale della pandemia sul sistema sanitario, sulle condizioni di vita, lavoro e salario, a cui va a giungersi proprio in queste ore un odioso aumento delle bollette di gas e luce. Con questo sciopero rimarchiamo l'importanza di un piano di rilancio economico e di riforme strutturali e omogenee, che mettano finalmente le reali necessità dei cittadini e che abbia come suo centro la salute pubblica e la persegua attraverso l'utilizzo di tutti gli strumenti a disposizione, a partire dal vaccino, strumento che riteniamo fondamentale per l'uscita da questa crisi sanitaria. È uno sciopero anche per chiedere al governo di trovare un modo che non costringa i non vaccinati ad assumersi l'onere dei costi dei tamponi, garantendo così servizi pubblici regolari ai cittadini, ma è anche uno sciopero che denuncia i mancati finanziamenti ai trasporti. Il bollettino diffuso oggi da Regione Liguria registra 4 nuovi casi di persone positive al Covid-19 nel Tiguglio. All'ospedale di Seste Levante i pazienti positivi sono sempre 3, sempre in ambito ASL4, infine le sorveglianze attive oggi sono 85, mentre ieri erano 110. La Regione Liguria intanto ha stabilito che presso l'Hub della Sala Chiamata del Porto a Genova i residenti dei comuni del Golfo Paradiso da oggi possono ricevere il vaccino antinfluenzale gratuitamente con accesso diretto. Vale per le persone dunque con più di 60 anni ad alto rischio di salute. Nella medesima seduta potrà essere somministrato anche il vaccino dedicato alla prevenzione del Covid-19, prima, secondo o terza dose. Il capogruppo di Civica Gianluca Buccilli intanto invita il sindaco di Recco Carlo Gandolfo a farsi parte diligente presso Regione Liguria affinché tali prestazioni siano erogate presso il plesso sanitario Sant'Antonio di Recco. Proseguono le chiusure notturne in autostrada nel Levante. Il tratto tra Chiaver e Rapallo, quello dove ogni giorno si registrano diverse code, sarà chiuso al traffico dalle 22 di stasera fino alle 6 di domani mattina. Tratto chiuso anche tra Genova, Nea, Via e Recco, nella notte tra mercoledì e giovedì. Il casello autostradale di Rapallo sarà chiuso invece in entrata verso Genova dalle 22 di giovedì alle 6 di venerdì 15 ottobre. Infine, per quanto riguarda l'A12, il tratto tra Lavagna e Sestri e Levante sarà chiuso 4 ore, da mezzanotte alle 4, nella notte tra venerdì e sabato. La Polstrada ha fermato sulla A12, l'autostrada tra Sestri e Levante e Genova un mezzo pesante di proprietà di una ditta italiana e gli agenti, già ad un primo controllo, hanno notato delle anomalie nel crono-tachigrafo che facevano pensare ad una qualche manomissione. I successivi accertamenti hanno consentito alla polizia stradale di scoprire la presenza di un congegno elettronico che consentiva all'autista di spegnere il tachigrafo a sua discrezione, come se il veicolo fosse in pausa anche se in realtà stava viaggiando. Questo permetteva all'uomo di guidare molte più ore rispetto a quelle consentite. L'autista è stato multato e gli è stata anche ritirata la patente. La polizia stradale ha anche sanzionato l'officina che aveva effettuato l'ultima calibrazione del tachigrafo. I carabinieri della compagnia di Santa Margherita Ligure hanno trovato 25 grammi di eroina e un bilancino di precisione all'interno dell'automobile di un 43N del Bangladesh. L'uomo, con pregiudizi di polizia, è stato fermato per un controllo a rapallo. Mentre lo identificava, i militari hanno notato che il 43N dava segni di nervosismo e così hanno deciso di perquisire la macchina, all'interno della quale è saltata fuori la droga, poi ovviamente sequestrata. L'uomo è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti. Un 19enne lo scorso agosto invece era stato aggredito a lavagna da tre giovani. Per il 19enne, 30 giorni di prognosi. Le successive indagini dei carabinieri, nell'occasione aiutati anche dalle immagini di diverse telecamere di videosorveglianza sia comunali che private, hanno rapportato alla denuncia di due 22N di Genova e di un 24N di Milano, due dei quali già noti alle forze dell'ordine. Secondo quanto ricostruito dai militari, all'origine dell'aggressione ci sarebbero motivi di gelosia per una coetanea. I tre giovani ora sono accusati del reato di lesioni personali in concorso. E' accusato infine di maltrattamento in famiglia, aggravati e continuati, a scapito della madre e del patrigno per questo un 32N di Chiavari già pregiudicato, è stato arrestato a seguito di indagini dai carabinieri di Lavagna. Nei suoi confronti, il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Genova ha emesso una misura cautelare in carcere. Poco prima di mezzanotte in Val Graveglia, lungo la provinciale 26, un incidente stradale ha visto protagonisti tre giovani che si sono piantati con l'automobile a bordo strada. In una curva, e per i liberali a consentire i soccorsi, è stato necessario l'intervento dei vigili fuoco del distaccamento di Chiavari. Sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale di Lavagna, fortunatamente non in pericolo di vita. Oggi pomeriggio invece un altro incidente stradale si è verificato lungo la strada che porta al santuario di Montallegro, in località San Maurizio dei Monti, a Rapallo. A causa di un malore, molto probabilmente un giovane è andato a sbattere con la propria auto contro il muro che delimita la strada. All'arrivo dei soccoritori le sue condizioni non destavano preoccupazioni, ma vista la dinamica del sinistro, il giovane è stato portato in elicottero e in codice giallo all'ospedale San Martino di Genova. Dopo l'euforia della vittoria, me lo permetta signor Sindaco, noi siamo a chiederle di svelarci un po' il gruppo che l'accompagnerà in questi ultimi 4 anni, penso. Sì, allora, intanto io voglio ringraziare i cittadini di Casalza perché questo consenso è di proporzioni straordinarie per noi e questo ci carica di una grossa responsabilità. Devo dire che i cittadini hanno giudicato e hanno giudicato anche sulla nostra lista, quindi i criteri che io ho deciso per formare la nuova giunta sono innanzitutto il consenso che i cittadini hanno dato alla mia squadra, l'esperienza amministrativa che i miei colleghi hanno acquisito e anche il tempo a disposizione. Per cui la giunta che formerò sarà composta da Mirella Biasotti che farà il Vice Sindaco e avrà delle deleghe importanti come la pubblica istituzione, la cultura, i trasporti, la riflessione scolastica. Da Ara Lorenzo che è stato dopo Mirella Biasotti e logicamente c'è stato Muzio che è stato il primo votato, ma Muzio è consigliere regionale, quindi farà il consigliere comunale con delle deleghe specifiche. Ara Lorenzo sarà l'assessore ai lavori pubblici, ma non solo. A lui darò una delega importante sul piano nazionale di ripresa e resilienza a tutta la questione dei bandi, le progettazioni, la pianificazione del territorio perché credo veramente che in questi cinque anni sarà fondamentale andare a prendere i soldi dove il Governo e l'Europa li darà perché ci sono veramente delle occasioni importanti a seguito della pandemia purtroppo ma che creeranno proprio la ripresa del nostro Paese e anche dei nostri comuni. Quindi occorre avere una squadra pronta anche a prendere i finanziamenti. Poi avrò Maurizio Miglietta che era il mio ex vice sindaco che ha fatto un lavoro enorme in questi cinque anni e quindi non solo va premiato, è doveroso che lui mantenga delle deleghe e non solo. Maurizio Miglietta sarà un assessore molto operativo. Si occuperà delle manutenzioni, dell'ambiente, del decoro urbano oltre a tenere le deleghe strategiche dell'urbanistica e dell'edilizia privata. Poi avremo una new entry, una donna che è Marica Casavola che è con noi da sette anni quindi ha un'esperienza amministrativa importante. A lei darò le deleghe del commercio, del turismo, dello sviluppo del territorio, della tutela del territorio, della transizione ecologica, energetica perché anche questo è un altro punto fondamentale per noi perché ormai è anche un ministro importante del governo a questa delega ormai il nostro paese deve andare verso un accompagnamento verso le nuove fonti di energia ma anche verso proprio un nuovo modo di pensare l'ambiente. Quindi lei avrà questa delega molto delicata. Signor sindaco, io ho lasciato Casarza negli anni 60 piccolo centro agricolo con l'intenzione dello sviluppo. Oggi che cosa ha bisogno di preeminente Casarza? Allora a Casarza ha bisogno fondamentalmente di due cose. Da una parte di migliorare veramente la qualità della vita perché chi viene a Casarza oggi avendo comunque vicino dei centri importanti come Sesti ma comunque avendo per esempio una sentieristica importante avendo una possibilità di sviluppo turistico ricettivo ha bisogno di avere un paese dove si può vivere bene vivere in maniera tranquilla avendo dei servizi. Servizi intendo lo sviluppo per esempio della rete familiare quindi tutto quello che concerne anche le scuole l'offerta formativa. Dobbiamo migliorare sicuramente su questo offrendo alle famiglie di Casarza una maggiore offerta. Dei parchi giochi, dei parchi verdi di tutto quello che riguarda proprio lo sviluppo della rete familiare. Il sociale poi è fondamentale. Io mi sono reso conto in questi cinque anni di quanto sia importante l'attenzione alla persona la cura della persona, le persone anziane le persone che hanno disabilità che sono in difficoltà e poi sicuramente uno sviluppo dal punto di vista occupazionale del lavoro per i ragazzi che ci vivono. E su questo abbiamo un progetto importante che stiamo realizzando con il villaggio del ragazzo di un polo di alta tecnologia nel vecchio palazzo comunale con Confindustria dove creeremo le basi affinché i nostri giovani possano avere una formazione sul posto e le aziende del territorio possano anche utilizzare questo luogo per formare i propri dipendenti. E noi le diciamo buon lavoro. Grazie, grazie a tutti e soprattutto grazie Casarza cercherò di metterci ancora più impegno e passione. Qualcuno mi ha chiesto ma cos'è l'Elzeviro? Ebbene, l'Elzeviro è quel raffinato carattere tipografico chiarissimo che tutte le testate della carta stampata hanno usato ed usano per distinguere gli articoli di cultura per lo più letteraria, artistica dal resto delle notizie e di solito pubblicati da tutti i giornali appunto nella terza pagina. come dire la cultura ha un carattere tutto suo un vestito ben visibile elegante, raffinato e unico per tutti la carta stampata ha dimostrato così di essere paladina della cultura e giusto per sottolineare l'importanza del carattere l'Elzeviro il carattere di stampa venne creato nella prima metà del 1600 dall'incisore Christoffel Van Dyck per una famiglia di tipografi ed editori olandesi appunto gli Elzevierer peraltro oggi esiste ancora la casa editrice Elzevier ecco appunto la nostra idea di portare anche in radio e in televisione nell'informazione di ambito locale un prodotto dal carattere unico ed uguale per tutti uno spazio dedicato alla cultura un carattere non tipografico ma che si ascolta e si vede questo per sottolineare che la cultura di informare l'ambito locale non può essere cancellata da regolamenti che volenti o nolenti purtroppo la stanno uccidendo davvero non abbiamo nulla contro l'innovazione tecnologica ben venga ma sia attuata nel rispetto di diritti acquisiti inviolabili lo ripeto sempre in uno stato di diritto nel rispetto dell'articolo 21 della Costituzione senza penalizzare e obbligare tutti ad esborsi anche chi non può permettersi di spendere per servizi tecnologicamente avanzati ma non essenziali anche l'innovazione tecnologica contro la quale ripetiamo proprio nulla abbiamo ma è giusto che si confronti con il mercato e si è a disposizione di chi può permettersela però senza penalizzare nessuno piccoli e medi e grandi editori locali e ancor meno deve penalizzare voi ascoltatori costretti ad acquistare decoder e nuovi televisori magari buttando televisori che funzionano ancora a Grazie a tutti.